La Walt Disney Pictures vi invita a un fantastico volo in compagnia di Peter Pan Il ragazzo che non cresce mai vi farà vivere un'avventura indimenticabile Con Trilli, Giglio Tigrato, Capitano Uncino e i Coccodrilli Con Wendy, Gianni e Michele traspassose avventure e mirabolanti imprese Un viaggio emozionante nel regno della fantasia da non mancare Un classico della Walt Disney Peter Pan Grazie